Perché sono qui, Roman? Ho bisogno di te. Distruggeremo il loro programma nucleare. Lo so cosa rischia, credimi. Ti prego, sta attento, va bene? Ok. Mio Dio. La mia fonte ha chiamato. La CIA vuole colpire centrali nucleari iraniane. Ci hanno scoperti. Partiamo tra un quarto d'ora. Punto di estrazione. Una vecchia base CIA nella provincia di Kandahar. Voglio solo andare a casa. Ci torni con me. Non è la distanza il problema maggiore. È quello che c'è in mezzo. Chiunque di loro prende il mio uomo, lo venderà al miglior offerente. Non ci sarà rifugio per te. Mani alzate. Fallo prima che aprano il tirassegno. Non sono una spia. Dammi dei nomi. Non li sappiamo. Mi creda, la prego. La prego! Dimmi che sta succedendo. Siamo il contorno di un gioco più grande. La mia vita è nelle tue mani. Nessuno ci verrà a salvare. Mi dispiace. Rabani. Sta giù! Siamo il contorno di un gioco più grande. Siamo il contorno di un gioco.